Domenico Pinto è il nuovo consigliere comunale del Partito Democratico. Si è insediato a Palazzo Gentile nella seduta del 13 novembre, sostituendo il dimissionario Francesco Brandi, che ha lasciato la carica per dedicarsi totalmente alla segretaria del PD. Per quanto riguarda i miei obiettivi personali, si inseriscono sicuramente in obiettivi di gruppo, che sono quelli del gruppo del Partito Democratico, continuare a fare bene, rafforzare i rapporti con le altre forze di centrosinistra, tendere la mano soprattutto a forze di centrosinistra che in questo momento anche sono fuori dall'amministrazione. Tesserato storico del partito, Pinto tuttavia, si candidò nel 2017 in quota Città Democratica, risultando secondo dei non eletti. La nomina in giunta di Rosa Calò prima e le dimissioni di Brandi dei giorni scorsi hanno permesso dunque il suo ingresso nella massima assise cittadina. Io personalmente mi sono candidato con Città Democratica alle ultime elezioni perché non condividevo più la linea politica del Partito Democratico locale. Bisognava dare una mano forte e consistente anche come Partito Democratico e come forza di centrosinistra a questa amministrazione e mi sono candidato con Città Democratica che era l'unica forza politica e civica che aveva sempre supportato in elezioni sovracomunali il Partito Democratico. Città Democratica si è sciolta ed è confluita per gran parte nel Partito Democratico e quindi io sono tornato nel partito che è la mia casa da sempre perché ho ravvisato l'opportunità di un vero rinnovamento del Partito Democratico che era il motivo per cui avevo lasciato il partito poi tre anni fa. Abbiamo ritenuto e si è ritenuto in un'ottica di rafforzamento del partito di consentirmi di fare questa esperienza come consigliere comunale e consentire a Francesco di dedicarsi agli aspetti più propriamente politici del Partito Democratico e della sede locale. Grazie a tutti.